Torniamo spesso quando succedono incidenti mortali sul lavoro a interrogarci su che cosa non sta funzionando, da che parte il problema sta e soprattutto se è una questione ancora una volta culturale. Sicuramente è culturale a prescindere poi di chi saranno responsabilità e queste saranno le indagini a chiarirlo, c'è una procura che sta lavorando. Noi ci dobbiamo porre una domanda, come mai succedono a qualsiasi livello queste cose e ormai in Toscana questo inizio dell'anno è un necrologio terrificante. È un problema di cultura, cultura intesa come il modo di fare le cose qui, ora. Manca quel prendersi cura di sé e degli altri. Questo vale a tutti i livelli, dagli imprenditori allo staff di licenziale fino ai lavoratori, fino ai genitori che portano i bimbi a scuola. È importante prendere coscienza di questo attraverso dei network perché come Italia lo sicurezza facciamo divulgazione no profit su questi temi, proprio per motivare le persone ad avere un punto di vista diverso su quello che è la cosa più importante di tutti, ovvero la nostra vita. È una sua sensazione che si sia ridotto un po' l'attenzione su questi temi? Sì, più che altro il percepito generale è dato da un insieme di regole e le leggi. Questa è la sicurezza sul lavoro percepita in gran parte oggi in Italia, quando in realtà stiamo parlando di valori personali, del voler star bene sul lavoro anche per essere performanti perché non c'è nessun conflitto fra la sicurezza e la produttività delle aziende, la produttività di noi persone.